Benvenuti sul nostro canale. Prima di continuare a guardare il video ricordati di metterci un like e di iscriverti al canale se ancora non lo sei. Giovanni Ciacci ha denunciato l'ex concorrente. Arriva un claboroso retroscena. Le accuse shock mosse da Sarah Manfusa nei confronti di Ciacci nel corso della puntata di ieri sera del grande fratello VIP hanno fatto molto discutere. Ma questa diatriba tra loro pare non si sia affatto terminata. L'ex concorrente Giovanni Ciacci starebbe andando dai suoi legali per sporgere denuncia nei confronti della Manfuso, stanco delle parole usate in studio. Sembra che lo staff di Giovanni Ciacci abbia cercato in tutti i modi di contattare telefonicamente la moglie di Andrea Romano, la quale però non si sarebbe fatta trovare. Quando la Manfuso ha lasciato la casa del GFV ci risulta che Ciacci l'abbia chiamata per cercare di parlarle ma la Manfuso non gli ha mai risposto. Una volta in studio Sarah Manfuso pare si sia immediatamente scusata con Giovanni Ciacci per non essersi fatta trovare al telefono asserendo che dal momento in cui è uscita dalla casa ha dovuto sbrigare diverse questioni in sospeso. Anche mattino 5 ha parlato della cosa. È successo durante la puntata di ieri sera del grande fratello VIP. in particolare Federica Panicucci e i suoi ospiti hanno voluto dire la loro sulla questione Sarah Manfuso. Ricordiamo che la concorrente ha deciso di fuggire dalla casa del GF per aver subito la violenza sessuale da Giovanni Ciacci. Alfonso Signorini dopo aver ascoltato la sua versione ha spiegato di essersi sentito preso in giro e più che altro Sarah avrebbe potuto trovare una scusa più plausibile per lasciare la casa. Voi continuate a seguirci per le prossime news che saranno sempre tantissime.